Ancora accertamenti sull'impianto antincendio dell'archivio di Stato di Arezzo dal quale lo scorso 20 settembre si sprigionò Gas Argon che tolse la vita a due impiegati, Filippo Bagni e Piero Bruni. Questa mattina in piazza della Commissario sono infatti tornati i tecnici incaricati dalla Procura ed ovviamente anche i periti di parte per svolgere alcuni test. Quindi si andrà a cercare cosa può non aver funzionato e cosa può aver attivato quella fuoriuscita di Argon? Esatto, esatto. A svolgere le delicate verifiche per far chiarezza sul tragico episodio, gli ingegneri Luca Marmo, Antonio Turco e Luca Fiorentino, ai quali il PM Laura Taddei che coordina le indagini è affidato l'incarico. Sembra impianto, sembra impianto, certamente. Per controllare il funzionamento? Per valutare alcuni aspetti dell'impianto e valutare se sono collegati ai fatti che sono in corso. Presenti questa mattina anche il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e i periti di parte sono infatti 14 in tutto le persone che hanno ricevuto un avviso di garanzia. Tra questi il direttore dell'archivio Claudio Saviotti e l'amministratore della Remas, l'azienda che aveva in appalto la manutenzione del sistema antincendio. Siamo sempre qui a cercare le cause che possono aver creato questa interruzione e quindi la responsabilità di questa pubblicità di gas. Non sono ancora fatte certamente abbastanza significativi perché siamo andati a ritroso, senza rivedere gli impianti, quindi c'è tutta la storia di tutto quello che era la parte tecnica per poter arrivare poi a vedere quello che è successo dopo. Oggi si andrà quindi all'impianto antincendio? Penso di sì. Spetterà adesso alla perizia stabilire le cause del malfunzionamento dell'impianto che provocò prima lo scatto dell'allarme, seppur in mancanza di un incendio e poi la fuoriuscita del gas killer.